Fabio Resinaro e Francesco Montanari, benvenuti su Spettacolomania. Ciao. Allora, protagonista e regista di Ero in guerra ma non lo sapevo, un film diciamo proprio a grandi linee sui 25 giorni ultimi di vita credo di aver contato, di Pierluigi Torreggiani, il gioielliere ucciso a Milano nel 79 per mano dei proletari armati per il comunismo. Allora, Francesco, io lo so che tu interpreti ovviamente il protagonista, io lo so che a te non piace, però il Torreggiani che vediamo in questo film ci appare abbastanza testardo, un po' arrogante, se ne è già parlato, anche se tu preferisci forse definirlo sicuro, no? Un uomo troppo sicuro. Come te lo sei sentito addosso? Come lo giudichi, anche se un personaggio non si giudica, ma lui è una persona realmente esistita? No, io non credo che sia un uomo troppo sicuro. Io credo proprio il contrario. Io credo che lui stia facendo i conti con la sua insicurezza. È questo che lo rende, come dire, se vuoi, banalmente, se dobbiamo proprio dare una definizione, un'etichetta arrogante. Cioè, lui a un certo punto, tu immagini, ma come non essere insicuro? Cioè, tutto quello che lui costruisce fino a quel punto a un certo punto per una scelta che non dipende da lui, dove tra l'altro lui neanche ha sparato perché è stato il socio, viene messo sui giornali. La strumentalizzazione gli distrugge praticamente pian piano il quotidiano che si è creato e quindi la sua vita. Perché poi detto quotidiano sembra essere una cosa piccola. No, 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 è la vita dell'individuo. E questa cosa lo lancia, lo spinge in un'insicurezza atavica, primordiale quasi, no? Cioè, chi sono io? È una crisi esistenziale. È per quello che lui non accetta di cambiare questa vita, perché è una persona estremamente insicura, quello che raccontiamo noi. Cioè, che si fa forza delle certezze esterne da lui, ma dentro è fragilissimo, è un bambino e quindi diventa magari ottuso, perché apparentemente non accetta la realtà, ma in realtà lo sa, non è stupido. È che crede di poter sistemare le cose. Quando alla fine capisce che non ce la fa più, comunque sceglie di andare al lavoro e il giorno, quel giorno è fatale. Cioè, secondo me, molto più sicuro è la figura della moglie, non è lui. Certo. Lui è un uomo fragilissimo. Il famoso, appunto, mi parlavi, no? Quel famoso aggiusto tutto io nel monologo iniziale, anzi volevo farti i complimenti, perché i monologhi per gli attori sono sempre delle grandi prove, quindi ha introdotto proprio il film e il personaggio con quel monologo in maniera veramente chiarissima. No, quello io penso che sia un atto di coraggio di Fabio, perché penso che quello sia un atto di coraggio di Fabio, cioè che nel 2021 comincia, ormai 22, scusate, comincia un film con quattro minuti di monologo, no? È quasi una cosa, se vuoi, strana rispetto a un momento storico in cui la pulizione è così veloce, deve essere per forza tutto... Invece no, credo che Fabio abbiamo fatto un ottimo film, perché quel monologo è presente il prologo, come se fosse una tragedia grega di tutto quello che accadrà. Esatto. Fabio Resinaro, un film che racconta ovviamente un fatto vero, ma comunque filtrato, no? In qualche modo dalla tua visione personale e anche dall'arte, che è quella del cinema, perché stiamo parlando di un film e quindi l'arte del cinema. Mi è piaciuta molto la metafora dell'orologio che hai usato, per sottolineare che cosa? Ce lo spieghi un po'. Forse che non sempre si può avere il controllo sul sistema? Sì, sì, sì. Lui, diciamo, è un gioielliero, un orologiaio, esperto di orologi e sì, mi piaceva l'idea di mostrare questo uomo che è, come dire, in qualche modo è abituato a riparare certi meccanismi, a intervenire sui sistemi e guardandoli dall'alto e senza rendersi conto che intorno a lui esiste un meccanismo predeterminato in cui qualcos'altro dall'alto lo guarda e lui in realtà è solo un meccanismo, no? E' quello che, questo spostamento, questa presa di, questa realizzazione di essere un meccanismo e non un orologiaio, qualcuno che può essere padrone del suo tempo, scrivere attraverso le sue prese di responsabilità alla propria storia, ma invece essere raccontato dai giornali che strumentalizzano, diciamo, il suo presunto personaggio, questa realizzazione è proprio l'origine del suo dramma e di tutta la vicenda, insomma. A tutti e due chiedo, allora, libertà in cambio di sicurezza, no? Lo vediamo anche in questo periodo per altri motivi, Torreggiani, per esempio, non rinuncia alla sua libertà, va via senza la scorta e infatti proprio appunto in quel giorno, in quel momento l'ha tentato e quindi l'ha guato, il figlio ferito, eccetera. Ma perché lo fa, secondo voi? Cioè, fino a che punto possiamo sopportare una privazione di libertà in cambio della nostra sicurezza, della nostra salvezza in questo caso? Sicuramente questo è un tema del film ed il momento in cui, diciamo, Torreggiani decide di farlo, cioè di rischiare e di prendersi quel margine di libertà in cui sta anche la sua responsabilità, forse questo è il motivo per cui lo fa, perché in quel margine di libertà sta tutta la sua responsabilità, cioè lui è abituato a prendersi il rischio, no? E questo definisce se stesso, con questo si definisce se stesso. Lo fa correre anche alla famiglia, no? Sì, però diciamo che se vogliamo andare in fondo a questo parallelismo, perché diciamo che c'è una sovrapposizione sicuramente tematica, ma forse non è totale, perché di fatto lui viene ucciso da Ipac, in quel caso Ipac dovrebbero essere i virus, no? In qualche modo. Diciamo che in quel caso non penso che Torreggiani negasse, diciamo, l'esistenza di un pericolo di per sé, ma non voleva fare parte di quella narrazione che veniva imposta dall'altro. Francesco, sei d'accordo? Poi ci salutiamo. Sì, sono d'accordo con quello che dice Fabio. Sai, l'eterna domanda perché ha scelto, cioè poi il nostro personaggio, non il vero Pierluigi Torreggiani, va bene? Il nostro personaggio perché scegli in quel momento, sapendo che la scorta è in ritardo, di... Io credo perché ci sia, almeno quello che ho cercato di fare io, credo che ci sia quel momento in cui tu hai preso una decisione, no? Razionale, dopo tutto un percorso che hai fatto e ti ha portato con profondo dolore, sofferenza e conflitto a una resa, no? A un certo punto però c'è il momento caleotto. C'è il momento caleotto dove l'impulsività prende il sopravvento rispetto a una razionalità, no? Chiara e limpida. E purtroppo quell'impulsività può essere la scelta sbagliata. Quindi io ti dico, d'attore, poi la verità delle cose non lo sappiamo, non la sa neanche Alberto, del perché lui quel giorno scelse questo. Non la sa, nessuno la sa, la sa soltanto lui, che però non ce la può dire, ahimè. Io ti dico, attualmente credo che sia una cosa molto umana ed è per quello che ribadisco il fatto che lui non è un uomo tutto da un pezzo. È come molto spesso gli uomini tutti di un pezzo capita, in realtà dentro è molto fragile. Perché un uomo tutto da un pezzo probabilmente non avrebbe preso quella scelta. Grazie, grazie mille, complimenti, grazie. Grazie per essere stati con noi a tutti e due.